bella zi sto facendo l'anteprima del video che esce stasera e ti volevo dire una cosa oggi è tempo di merda zi guarda che roba vedi si vede piove piove tona e allora ieri mentre stavo lì che invece c'era il sole stavo di fuori giù in fondo che ho fatto? ho fatto il gallinaio per mettere pure le paperelle, questi le paperelle che volevo cucinare poi a un certo punto ho visto il latte fuori no? si stava a fa' buio mi hanno fatto tenerezza allora ho preso e me li sono riportate dentro zi qua eh? c'è le paperelle dentro casa zi guarda guarda come sono cresciute eh? come sono cresciute le paperelle no che te vergogni è bella zi che fa' di vergogna c'è vergogna di bella zi guarda guarda la paperella c'è vergogna di parolacce no saluta zi ciao zi vabbè il gallinario è foto e me li sono riportati a casa c'è porno sta con questo freddo in questo tempo l'Africa tu non ti devi mangiare eh? così vuoi mangiare l'Africa no eh? li rimettiamo dentro oh è cascato vabbè zi t'ho fatto vedere i paperelli t'ho fatto vedere il tempo brutto e via stasera a vedere video 19 e 30 esce in video stasera che è venerdì uno sabato e uno domenica sto a lavorare per te zi